Sei un calciatore dilettante in un'età compresa fra gli 8 e i 16 anni. Hai talento e ti piacerebbe essere visionato da grandi squadre, ma non sai come realizzare il tuo sogno. Non serve conoscere qualcuno per diventare qualcuno. Iscriviti su www.gole.org. Un pallone ed il tuo talento potrebbero essere la chiave del tuo successo. Ogni giocatore iscritto al nostro portale avrà un suo profilo, che potrà essere visibile a tutti. Potrà ricevere valutazioni sulle sue prestazioni effettuate durante gli allenamenti e le partite e condividerli su Facebook. Alla fine dell'anno, i giocatori più meritevoli e con maggior rating, come premio per il proprio impegno, potranno partecipare alle sessioni di allenamento presso le strutture dei top club e quindi essere allenati dai migliori professionisti sul campo. Una volta registrato su www.gole.org, ciascun giocatore attraverso il proprio account potrà visualizzare le informazioni tecniche di altri giocatori, leggere i messaggi del proprio allenatore sulle convocazioni agli allenamenti o alle partite o anche valutare il proprio allenatore. Inoltre, Gole dà la possibilità di creare un account tifoso che ti permette di interagire con gli account giocatore attraverso il meccanismo dei like. e potrai conoscere così la storia calcistica dei giocatori iscritti, i rating partita, i rating allenamenti ed i punteggi generali, creando così una vera e propria tifoseria virtuale. Cosa aspetti? Iscriviti e fai conoscere alla tua squadra il nostro portale di servizi e di informazioni www.gole.org. Grazie al tuo valore e alla tua ambizione potresti diventare un calciatore professionista. Grazie al tuo valore e alla tua ambizione potresti diventare un calciatore attraverso il nostro portale di servizi e di servizi.